Sono a Campania, un'azienda agricole, sono a Vittorio, sono a Vittorio, sono a Vittorio, sono scavato con un'anzara, mi hanno detto che mi vanno a spiegare, io sono scavato con quello che mi ha spiegato. Hanno preso l'angia, quella che cercavamo, però non hanno visto la mia faccia, capito? Loro non hanno preso la nostra faccia. C'è il buonazzo deve venire carino, ci buttiamo sui corsi. Questo è un motore che mi aveva preso lì, 80 cavalli. Vero? Vero. E che tempo hai detto? Dici non fanno più testa? Ma almeno non mi hanno visto, mi bacia, capito? Se c'era bisogno di comprare altri motori, allora non c'è bisogno che ci fai tu a comprarli, avete mandato qualc'altro a comprarli, no? C'è, dove sei? Ripazzo il navio? C'è, dove sei? Ripazzo il navio? Non c'è, 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 non c'è. Ma a quel ruolo c'è? E devi stare in una macchina, i carrolli. E, questo e ci sono un po' errore. E ci sono le mani, perché devi stare in una macchina ovesti, e non c'è, non c'è, non c'è.